Straiati comodamente sulla schiena e copriti con una coperta. Gambe e braccia sono leggermente divaricate e lontane dal corpo. I palmi delle mani rivolti verso l'alto. Chiudi gli occhi e inizia ad osservare il tuo respiro, senza cercare di cambiare nulla. Dov'è il respiro? È nella pancia o è nel petto? È fluido e aperto? O è sofferto e a scatti? Semplicemente osserva. O è sofferto e a scatti? Se respiri correttamente, quando inspiri l'addome si espande verso l'esterno e quando espiri ritorna verso la colonna vertebrale. Se in questo momento stai respirando al contrario, cerca di invertire gentilmente il flusso del respiro. Se vuoi puoi mettere le mani sulla pancia. Quando inspiri senti l'addome gonfiarsi, le mani si allontanano dal corpo e quando espiri le mani e l'ombelico tornano verso la colonna vertebrale. Concentrati solo sull'addome con dei respiri lenti, lunghi e profondi. Ogni volta che si presenta qualche pensiero, sposta gentilmente l'attenzione sul respiro e sul movimento del tuo corpo. Con ogni ispirazione porta nuova energia al tuo corpo e con ogni espirazione lascia andare consapevolmente le tensioni fisiche, emotive e mentali. Inspira prova a creare e cercare nuovi spazi all'interno di te. Espira e elimina tutta l'aria spingendola giù verso il coccige e verso il centro della terra, portando con sé ogni tensione. Ora prova ad inviare il respiro verso il tuo cuore. Nutri prima ogni cellula del tuo addome e aprendo il diaframma invia il respiro verso il centro del cuore, alzando dolcemente la gabbia toracica. Trattieni per qualche secondo il respiro nel cuore e accogli questa nuova energia di espansione. Poi espirando dal petto fai fuoriuscire l'aria verso l'addome giù fino al centro della terra lentamente e profondamente. Fa che il tuo respiro sia lento, completo e profondo. Inspira con dolcezza l'aria dall'addome verso il cuore. Espira, lascia andare ogni tensione. inspira rilassamento. Espira tensione. Inspira amore per ogni cellula del tuo corpo. Espira paura e insicurezza. inspira pace e armonia. Espira preoccupazioni e ansia. accogli ogni sensazione che il tuo corpo ti comunica. Sei completamente al sicuro in questo momento. ... ... ... ... ... Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Puoi decidere ora di rimanere in questo stato di rilassamento oppure gentilmente di iniziare a muovere le dita delle mani e dei piedi e solo quando vi sentite pronti di aprire gli occhi. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!